Basta dibattiti infiniti, è ora di decidere il luogo del nuovo ospedale. Con questa esclamazione il sindaco di Fano Massimo Seri ha ribadito il suo no a Muraglia di Pesaro, rilanciando Chiaruccia come zona ideale essendo centrale per le tre vallate ed oltre a chiedere ai colleghi di uscire dai campanilismi, vorrebbe al più presto un incontro con il presidente della regione Luca Ceriscioli, anche in consiglio comunale. Ho chiesto anche alla luce delle discussioni che sono emerse in questi giorni per capire qual è l'agenda politica che lui ha in testa, prendendo anche dei punti fermi su quelle che sono le posizioni della nostra città. C'è inoltre un problema, detto Seri, cioè quello dei due ospedali, Santa Croce e San Salvatore, che non possono continuare in queste condizioni. Secondo il sindaco va proseguito il percorso di integrazione fra le due strutture, ma allo stesso tempo lancia una proposta al direttore generale di Marche Nord, Aldo Ricci. Ho lanciato anche una proposta, viste anche le caratteristiche delle Santa Croce, le professionalità che ci sono e le strutture che ci sono, di pensare a un dipartimento della salute del bambino e della donna in senso lato. Questo qualificherebbe Marche Nord, qualificherebbe Santa Croce, ma potrebbe diventare anche un punto di riferimento importante e sanitario per tutto il territorio regionale. Il primo cittadino è intervenuto poi sul degrado e verde pubblico. Verranno presi dei provvedimenti sia sul lungomare, quindi Lido, Sassoni e Torrette, sia in centro storico che alle porte della città, comprese quindi anche le rotatorie di grandi dimensioni. Progetti inoltre ci sono anche sulla programmazione degli eventi, che secondo Seri dovranno avere due caratteristiche ben precise. Una è quella dell'accoglienza, sia per chi vive la città, sia per i turisti, che deve essere un ventaglio per tutti i gusti, come si dice qui. Non ci manca nulla per fare tutto questo. Poi c'è un tema di eventi forti che devono caratterizzare, che sono di promozione, importanti, di alto livello. Poi da settembre ci sarà un calendario molto fitto, che coinvolgerà molti settori della città, e avremo un'offerta veramente importante e ricca.